Ben ritrovati all'appuntamento con Zona CIS, la trasmissione di approfondimento realizzata da Unica in collaborazione con la CIS Monza-Brianza-Lecco, ospite in studio Anna Fumagalli, responsabile dei servizi sociali dell'FNP CIS Monza-Brianza-Lecco. Apriamo con un capitolo importante, quello relativo ai bonus per le famiglie, perché in questo periodo di emergenza Covid le famiglie hanno bisogno di un sostegno e i sostegni ci sono. Anna puoi inquadrarci la situazione I mesi sono state introdotte diverse misure a sostegno delle famiglie. Una prima misura che è stata riconfermata dal decreto rilancio è il congedo Covid-19. È concesso ai genitori con figli di età non superiore ai 12 anni e in caso di figli con handicap grave non si considera questo limite di età. Si tratta di una indennità retribuita al 50% con contribuzione figurativa che viene concessa per un periodo continuativo o frazionato a giorni, per 30 giorni da usufruire nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio. Questa misura è godibile anche in modo alternato da parte di entrambi i genitori. A chi bisogna rivolgersi per ottenere queste agevolazioni? Sì, questa domanda è presentabile o attraverso i nostri patronati Inas oppure attraverso il portale dell'Inps utilizzando il proprio PIN personale. Una volta presentata la domanda è necessario dare comunicazione dell'istanza al datore di lavoro. Benissimo, approfondiremo poi alcuni aspetti relativi a queste tipologie di sussidi dopo l'intervento della segretaria generale della CIS Monza Brianza Lecco, Rita Pavana. Il Premier Conte ha convocato anche i sindacati negli Stati Generali per cercare le soluzioni per far ripartire il Paese dopo l'emergenza Covid. Ne parliamo con Rita Pavana, segretaria generale della CIS Monza Brianza Lecco. Innanzitutto quali proposte avete formulato a quel tavolo? A quel tavolo sono state formulate parecchie proposte. Uno, quello per esempio di rilanciare consumi attraverso tutta una serie di manovre, quello di investire sulla sanità pubblica che è stata messa fortemente in crisi dalla situazione Covid. Abbiamo parlato di investimenti in strutture materiali e immateriali. Occorre anche sbloccare tutti i soldi che erano già stati stanziati per le grandi opere che sono lì inutilizzati. Abbiamo parlato di lotta all'evasione fiscale, tema che riproponiamo sempre perché con 111 miliardi di evasione fiscale all'anno si potrebbero fare tantissime cose. Abbiamo parlato anche di strategie sull'istruzione, sulla formazione e sulla scuola. Da questo punto di vista tardano le risposte nei confronti delle famiglie, delle categorie coinvolte. Sulla scuola c'è più di un punto di domanda. Qual è il vostro punto di vista? Io credo che sia importante ripartire al più presto. Del resto in praticamente tutti i paesi europei la scuola è già ripartita. Certo noi abbiamo problemi di strutture scolastiche che sono vecchie obsolete, sulle quali occorre fare investimenti. Ci sono tanti problemi, quindi noi diciamo che bisogna ripartire in sicurezza, ma bisogna ripartire perché l'istruzione e la scuola sono un settore strategico e ovviamente non possiamo permetterci di perdere altro tempo. Ben ritrovati in studio con Anna Fumagalli, responsabile dei sportelli sociali della FNMP CIS Monza-Brianza. Abbiamo parlato del bonus Covid, ma ci sono altri sostegni per le famiglie in questo periodo difficile? Un'altra misura è il bonus babysitter o centri estivi. Si tratta di un contributo concesso ai lavoratori dipendenti del settore privato, oppure iscritti alla gestione separata o autonomi, che è pari al valore di 1.200 Euro, oppure per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico o del privato accreditato, pari a 2.000 Euro. Questo per l'assunzione di babysitter, oppure per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia, oppure servizi socioeducativi territoriali. Teniamo presente che questo contributo è alternativo alla misura del congedo Covid e se richiesto per i centri estivi non può essere richiesto insieme al bonus nido, quindi le due misure sono incompatibili. Inoltre può essere richiesto a condizione che l'altro genitore non usufruisca già di altre forme di sostegno al reddito, oppure non sia disoccupato o non lavoratore. Benissimo. Oltre a queste iniziative, per concludere, c'è qualche altra opportunità a sostegno delle famiglie? Per i genitori dipendenti del settore privato e anche pubblico, sempre facendo riferimento alla propria amministrazione e con figli di età inferiore ai 16 anni, per tutto il perdurare della sospensione delle attività scolastiche è possibile astenersi dal lavoro con conservazione del diritto al posto di lavoro e di vieto di licenziamento, però senza alcuna indennità e nemmeno contribuzione figurativa. Inoltre, per i lavoratori del settore privato, dipendenti, è possibile anche usufruire dello smart working. Devono in questo caso avere figli di età inferiore ai 14 anni e sempre vale la condizione che non ci sia altro genitore che usufruisce già di strumenti di sostegno al reddito oppure che sia disoccupato. Benissimo, ringrazio Anna Fumagalli per questa carrellata sulle opportunità a sostegno delle famiglie in questo periodo difficile. Ovviamente c'è la possibilità di rivolgersi ai vostri sportelli. Sì, grazie a voi. Grazie a tutti.